Il punto di forza dell'Andrangheta è il vincolo di sangue. Due o tre famiglie patriarcali formano un'organizzazione detta locale. E questa la rende forte, la rende granitica. È difficilissimo trovare un collaboratore di giustizia, perché prima dovrebbe parlare di 200 parenti, poi degli amici, poi dei nemici. Quindi non ci sono... Non ci sono i pentiti, insomma. In questo momento il rapporto è da 1 a 100 rispetto alla camorra, no? Cioè, quando si... e poi c'è un altro dato ulteriore. Quando un calabrese si pente, un andrangheta si pente, si porta al massimo la moglie con i due o tre figli. Quando si pente un camorrisse si porta 15-20 persone appresso. Cioè è diverso l'approccio. Certe volte, voglio dire, nell'andrangheta nemmeno la moglie lo segue, perché la moglie fa parte di un'altra dinastia di andrangheta. E quindi il vincolo di sangue le rende forti. Poi è molto difficile, rispetto alla camorra, è molto difficile entrare nell'andrangheta, perché c'è una forte selezione. C'è un vivaio, un'osservazione che dura un anno, un anno e mezzo. C'è un giovane, che si chiama Contrasto Onorato, vuole entrare a far parte dell'andrangheta, cioè ad essere battezzato Picciotto Liscio. Per poterlo fare... Picciotto? Picciotto Liscio. Liscio, volrebbe dire... La base, è la prima dote della società, dell'andrangheta. Non si può parlare di gradi, si parla di doti, perché tutti i termini che fanno riferimento alle forze dell'ordine sono aboliti nell'andrangheta. Quindi si chiama dote o fiore. Per avere questa dote o fiore, viene messo alla prova per un anno e mezzo, tipo vai a sparare quello, vai a mettere una bomba alla caserma. Quello non è un ordine che sarà eseguito, che deve essere portato a compimento. Si studia il profilo criminale, si studia l'attitudine, si tentenna. Sei una persona che domanda, ma perché devo andare? È già scartato, è già fuori. Mentre ad esempio, nella Camorra è diverso. La Camorra è molto più leggera, è sempre meno attenta all'osservanza ortodossa delle regole. Infatti, in Italia, la Camorra è la prima mafia che c'è stata in Italia. Se un giorno dovessero sparire le mafie, la prima mafia che sparirà sarà la Camorra, perché la Camorra è sempre meno mafia, è sempre più gangsterismo, è sempre più criminalità organizzata, è sempre più criminalità comune, è sempre meno mafia. Cioè, la Camorra, forzando, potrei dire, che è tenuta in vita più dai mass media, che non in concreto possiamo parlare di mafia.